Salve, ho un contratto a canone concordato 3 più 2. Dopo tre anni il proprietario può aumentare l'affitto grazie in anticipo. Grazie mille a lei per la domanda, la risposta è no. Il canone di locazione che le parti hanno stabilito nel contratto è valido per tutto il periodo, nel suo caso cinque anni, salvo l'adeguamento istat annuale, ma solo se il locatore non ha optato per il regime fiscale della cedolare secca e comunque, sempre nel suo caso, trattandosi di un canone concordato nella misura massima del 75% del dato istat. Inoltre, mentre per i contratti a canone libero il locatore può aumentare a suo piacimento il canone al termine degli otto anni, in quelli a canone concordato ciò non può essere fatto perché il canone è stabilito in base a precisi parametri stabiliti dagli accordi territoriali. Quindi, a meno che gli accordi non siano cambiati nel frattempo, oppure l'immobile abbia avuto delle migliorie tali da poter permettere la richiesta di un canone più elevato, in base ai parametri degli accordi il canone deve rimanere invariato. Molto bene, questo è tutto. Spero che questo video vi sia utile. Se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre, vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi. Alla prossima!